Salli, sei lì? Danna zi, peone! Salli, rispondi! Ah, grazie a Dio, Nate, dove sei? Vengo da te! Sì, hanno preso Elena, dobbiamo fermarli! Eh, ho problemi di mio! Questi bastardi mi hanno bloccato fuori dalla chiesa! Ci sono quasi! Monedetti figli di buona donna! Da quella parte! Ok! Ok! È là! Oh! Giù si, Mario 3! Oh! 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 Bene! 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 Vai, Queen! Ok! 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 Come! Sei morto Manderemo i tuoi resti a casa Ok Non perdere di vista Non perdere di vista Ok Oh Bene Ok Ok Eccolo, vieni là! Eccolo, vieni là! Eccolo, vieni là! No! No! dobbiamo fermarli sali non sanno con chi hanno a che fare cosa stai non so come ma la statua ha distrutto la colonia e ucciso tutti i tedeschi e cosa dici non c'è tempo dobbiamo raggiungere la chezza Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Spara per uccidere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Wow. Oh, per l'amor di Dio... Oh, per l'amor di Dio... Prendi questa! Oh, per l'amor di Dio... 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 Oh, per l'amor... Oh, per l'amor di Dio... 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 Forza, Sully! Deve esserci un passaggio segreto appena sotto l'altare! Allora... Egli... Santo cielo! Wow! www.feyyaz.tv